Sono lunghe le liste di attesa, soprattutto per la radiodiagnostica negli ospedali teramani, talmente lunghe che si è riunita per discuterne la Commissione Sanità del Comune di Teramo. A sollevare il problema, la capogruppo consigliare dei 5 Stelle, Pina Ciammariconi, che ha snocciolato una serie di dati preoccupanti. Per un ecodome richiesto a metà ottobre, l'appuntamento comunicato dal CUP dell'Asla di Teramo è per luglio 2022, per una mammografia, maggio 2022, per una risonanza magnetica, l'ombosacrale, marzo 2022, per una TAC, febbraio 2022. Le persone si ammalano come si ammalavano prima del periodo del Covid e della pandemia, si ammalano anche oggi. C'è bisogno di visite diagnostiche, di esami diagnostici, di visite specialistiche e per fare questo bisogna prenotarsi. Quando si è fortunati e si riesce a parlare con il CUP, le date che ci vengono date per la sanità nazionale sono assurde. Non si può aspettare, per esempio, la conoscopia a ottobre 2022, ma se il mio medico pensa che io abbia dei problemi e devo fare una conoscopia, non devo aspettare fino ad ottobre 2022, ma sono morta per quella data. Quindi chiedo fortemente al sindaco, come ho già fatto in altri consigli comunali quando ne ho avuto l'occasione, lui come massima autorità per la sanità cittadina deve farsi portavoce di questo. C'è bisogno che chi viene pagato alla ASL per organizzare queste cose si preoccupi a dare delle soluzioni. Io come consigliera comunale posso soltanto sollevare il problema, che è il problema di molti cittadini. Poi c'è chi è pagato per trovare le soluzioni, che lavora la ASL e che dovrà dare delle risposte ai cittadini. Al termine della riunione della Commissione Sanità del Comune di Teramo, alla quale ha partecipato anche il sindaco Gianguido D'Alberto, il presidente Vincenzo Cipolletti si è impegnato a portare a conoscenza del disagio delle lunghe liste d'attesa i vertici dell'ASL di Teramo, per trovare una soluzione ad un problema che potrebbe mettere a rischio la salute di tanti cittadini. Grazie. Grazie. Grazie.